Amici bentornati in una nuova partita degli All Star Galactico Forse è meglio non urlare perché la scorsa volta non urlando abbiamo portato a casa con un buon risultato Quindi iniziamo cauti, poi se c'è da festeggiare al massimo In questo momento siamo secondi in classifica a più tre rispetto all'altra squadra che incontriamo questa sera Quindi ci giochiamo il tutto per tutto il passaggio del turno perché poi appunto si andrà a formare un ulteriore girone con le squadre più forti di tutti i tre Anche i Seven Seeds ma non solo ci sono anche altre squadre molto forti Quindi io direi di scendere in campo abbiamo Fikey che è tornato dal Kenya, Stipey che è tornato dall'Albania Allora raga io metto 500 euro sullo Star Galactico Buonasera dai Matoshi, altra partita dei Galacticos, altro video, è tutto pronto, si stanno salutando E il Brudi tocca il primo pallone per il Fikey che tenta la conclusione addirittura dalla propria metà campo Oggi Berlini titolare, funicolizza Zaza in mezzo al campo insieme a Richidose C'è qualche cambiamento, lo vediamo subito con Berlini Attenzione, seguiamo l'azione del numero 11, prova ad andare Spesso criticato nei commenti il Simone Berlini, il Principe Vedremo oggi come risponderà alle critiche E il Fikey in verticale per il Brudi, grande traccia per Angelinho Carpani che però viene chiuso dalla difesa È l'ultima partita del girone intanto, giusto per dare qualche dato E vedremo quindi se gli All-Star Galacticos si posizioneranno primi, secondi, terzi, quarti nel girone Per poi andare a affrontare in fase di eliminazione diretta o i Seven Sins o la squadra di Parolo Insomma, vedremo Intanto il match scorre, siamo già al secondo minuto La squadra bianco-verde prova ad andare in avanti Però gli All-Star Galacticos sembrano, dico sembrano Aver iniziato in maniera giusta questo match E allora il pallone subito in avanti Eccolo lì, intanto inquadrato, anche Mr. Empy Che dà qualche indicazione da fuori campo C'è anche Chris Laway Ma soprattutto c'è una rimessa laterale per i bianco-verdi che provano ad andare Poi Ricky Dose ci mette il corpo con il suo tutore sul ginocchio destro Un piccolo problema per lui, ma è in campo Il numero 99 Sergei in avanti morbido A cercare il fighe che era scattato Poi però lo anticipo al portiere Allora Funicoli-Zazza In verticale, buono pallone per il Brudi Sbaglia però l'aggancio è il fighe Magicamente siamo già con Berlini per Dose In avanti per il Brudi Subisce fallo E allora calcio di punizione Va all'arcere Con il destro colpisce uno dei due uomini in barriera E allora Funicoli-Zazza Campo molto, molto bagnato Quindi attenzione anche a come viene colpito il pallone E attenzione anche ai tiri, rasoterra Che potrebbero diventare letali Carpani A cercare il fighe Sergei intanto rimette in gioco il pallone con le mani Per Ricky Dose Berlini In avanti Buona la traccia in verticale Per il Brudi che prova l'elastico Se ne va il Brudi Grande giocata Poi Berlini Eccolo qua il Principe Sei minuti Fa 1-0 Ma rivediamo l'elastico di Brudi E poi l'assist al bacio Di la verità Mica troppo perché poi il difensore la lascia lì Berlini comunque Partite da titolare Tante critiche Fa l'1-0 Proprio lui Come direbbe Sandro Piccinini E allora Funicoli Zazza In avanti per Carpani E il fighe Si gioca l'1-1 Va sul sinistro Il tiro La grande risposta del portiere La palla che rimane ancora giocabile Per il Brudi Chiuso dalla difesa Insiste però il Brudi Che sembra indemoniato Che all star Che all star Di Cempi Effettivamente Come dicevo anche io In telecronaca poco fa Sembra Avere iniziato molto bene La squadra di dose Non c'è Dada Come si può vedere Non chiedetemi Perché Il motivo Attenzione Vediamo il fighe Parte il tiro Centrale Facile Per il Numero 1 Della squadra Bianco-verde Attenzione Funicoli Zazza Solo Però sbaglia l'aggancio E allora Vanno loro La palla rimane lì Sergei non trattiene E arriva l'1-1 All'ottavo minuto E come dicevamo prima Il campo Fa schizzare tantissimo Il pallone Non era facile Sergei La respinge La fa rimanere lì Per l'attaccante Che fa 1-1-1 Al primo vero tentativo Offensivo Attenzione Siamo già dalla parte opposta Con il fighe L'arciere Brudi Il fighe Con le scarpe identiche Fanno Confezionano E la 2-1 Che palla Il brudi Portiere non posizionato Direi bene E allora Al nono minuto Siamo 2-1 Per gli Oster Galacticos Che riprendono subito E rimettono Il musetto Là davanti In questo match Tanto Si eleva anche il coro Per i Galacticos Attenzione Buono Lo schema Sergei Questa volta Miracoloso E altrettanto Sulla linea Il grande salvataggio Di Carpani Poi la palla ancora Dentro l'area di rigore Berlini è costretto A spazzarla Si soffre Rimessa laterale Funicoli Zazzala Chiama Sergei La riceve però Carpani Poi Arroraccio di Carpani Bruta palla persa Allora Ci provano loro Funicoli Zazzala Se la va a riprendere E riparte Il numero 24 Mezza al campo Allarga il pallone Per l'arciere Chiede l'1-2 Sarà soltanto Corner Parte il grosso Di Funicoli Zazzala Può tirare il Brudi Lo fa in questo momento Buona la parata Il Brudi qua Non se l'è sentita Di fare L'eurotiro Allora Ricky Dose Alleggerisce Su Sergei Che va Morbide in avanti Per il Brudi Ripeto La lascia di per il fiche 1-2 Che non si chiude Per un soffio Ballone Per Carpani Non male Per un attimo Abbiamo anche Intravisto la curva Degli All Star Galacticos Dei tifosi Sempre più Affezionati A questo nuovo team Di YouTube Del web Attenzione Carpani Subisce fallo Lascia proseguire l'arbitro Anzi no Fischia Giustamente Direi Se hai sentito Il colpo subito Allora Funico Lizzazza Il numero 24 Al piccolo trotto Vede un Berlini Fiammeggiante Oggi Che punta l'uomo Attenzione Berlini Mi ha confidato Che si sta allenando Durissimamente Per ritornare in gran forma Attenzione Dose Da lontano La palla che esce Pallone in avanti Ricky Dose È stato respinto così Poi però Se la va a riprendere Il numero 99 Con le scarpe oro Pallone in mezzo Come se fosse Un'azione da rugby La prende Sergei Poi è il Brudi Grande palla Per il Fiche Oh mio Dio Boom Il Fiche Brudi Il Fiche Quando sono così Sono illegali Che gol Ragazzi Mamma mia 3 a 1 Al quattordicesimo Ma questo È già Nella top Five Almeno Dei gol Dello Star Galactico Attenzione Il Fiche Dentro l'area di rigore Messo giù In grandissima forma Parte il Brudi Arriva il Fisco Il tiro Potente E soprattutto Preciso Perché Vale 4 a 1 E il Brudi Impeccabile Dal dischetto E allora Hanno messo Tre lunghezze Di vantaggio L'Iostar Galacticos Quasi a fine Primo tempo Devono gestire Il vantaggio Attenzione Attenzione Il Brudi Grande palla Lasciata lì Per Berlini Berlini Si incespica un po' Con il palone Poi la va a recuperare Il numero 22 Ci pensa Lui Mette tutti d'accordo Altro palone morbido Per il Fiche Per un attimo Sperato Al tiro Alla Di Natale O alla Francesco Totti E poi però Ha tentato uno stop E allora Al sedicesimo Si riaffaccia La squadra Bianco-verde Alla parte opposta Ma Berlini Un muro anche oggi Riparte il Fiche Spinge il cavallo Di Ciempi E il Fiche Per Berlini A giro Sul fondo Sembrava Gilardino Per Del Piero Non con lo stesso Epilogo però Tanto il Brudi Ci ha provato Di petto dose Come stanno giocando Gli Star Galacticos D'esterno Carpani Rientra Funico Lizzazzà Prova ad abbassare Un attimo i ritmi Si ragiona Perché sono 4-1 E il Fiche Si crea un isolamento Come nel basket Per il numero 10 Rientra Poi Sterza Ancora Con il destro Centrale Fa paura però Il Fiche Quando è in forma Vediamo Il pallone Gestito Dagli avversari Degli All Star Galacticos Che sembrano In totale controllo Del match Gli scippa Il pallone Richidose E allora riparte Con questa verticalizzazione Per i Brudi Che è solo Attenzione Insiste Poi però Pallonesce Lateralmente Ma Le inquadrature Ci ripropongono Berlini Sicuramente Il più bello Simone Berlini Non ci sono dubbi Attenzione Funico Lizzazzà Grande uscita Palla Poi dose Bene per Brudi Dentro l'area Funico Lizzazzà Funico Lizzazzà Mamma mia Che azione Li All Star Galacticos 5 a 1 Brudi Con un assi simile A quello Dell'1 a 0 Per Berlini Stavolta vale Il 5 a 1 E' il fiche Dalla parte opposta Ha diventato Il fischio Dell'arbitro Fine Primo tempo Si riprende quindi Con questo Secondo tempo Hanno fatto finta Di essere preoccupati In panchina Nel Nel discorso Di metà tempo Oggettivamente Dipende solo Da loro Perché tecnicamente Mi sembra Non ci sia storia Per Gli Star Galacticos Nettamente superiori Al completo Con il fiche Con il brudi Attenzione Il fiche Il fiche La porta è vuota Poi i brudi Dicono Fai gol Non tira nessuno La palla per il fiche Che fa tripletta Eh Hanno rischiato Di fare la figuraccia Però poi Hanno portato a casa Il gol del 6 A 1 Imparabile Difficile O per lo meno Berlini Riceve Simone E il principe Berlini Poi Chris Laway Che tocca il suo primo Pallone del match Lo regala Però Agli avversari Che Devono un attimo Riordinare le idee O per lo meno Tentare di Non naufragare Ulteriormente 6 e 1 Star Galacticos Giocano i due difensori Aspettalo Di Ciempi Poi Il pallone Dentro L'area di rigore Che si perde Direttamente Sul fondo Sergei batte E il fiche parte Berlini Vuola Ignorato Però preferito Chris Laway Che va morbido E mezzo per Berlini Era una grande Occasione fallita Questa Per il principe Che L'ho difeso Fino all'ultimo E adesso Mi sta un po' Smentendo Vediamo Ancora il numero 5 Che Si porta la palla Praticamente Fuori dal campo Da solo Allora il Brudi Attenzione Prende la mira Sul fondo Il Brudi Si accende così Torna anche in difesa Il Brudi Penso di non averlo mai visto In tutte le telecronache Il Brudi Che torna in difesa Ma è una bellissima notizia Per gli All-Star Galacticos In questa fase Nel torneo Perché stanno Per arrivare Le partite importanti Attenzione Vediamo il Brudi Cade come un salame Qua Il Brudi Però è falloso L'intervento Dell'avversario Rimessa laterale Attenzione Chris Laway Lotta Grande palla Di Chris Laway In ripartenza È un 2 contro 1 Il Fiche per il Brudi Attenzione Il Brudi Freddato il portiere Doppietta 7 a 1 Ma al numero 22 E il numero 10 5 gol in 2 Impressionanti oggi Impressionanti oggi Cori Cori Per i giocatori Dello Star Galacticos Settimo minuto Del secondo tempo La partita ormai È chiusa Godiamoci un po' Di sound Vediamo se c'è Un altro coro Tanto c'è un colpo di tacca Poi Sergai Miracoloso Non basta Su una linea di porta Arriva il tap in Vincente nel numero 3 Della squadra Bianco-Verde 7 a 2 Però Onorevole La prestazione Degli avversari Che fino all'ultimo Non mollano E allora Attenzione Il pallone Ancora gestito Dall'attaccante Con il numero 1 Curioso La scelta del numero Attenzione Sergei Che parata Ma che erroraccio Dell'attaccante Avversario Qua Hanno staccato la spina Un attimo Gli All Star Galacticos Subito Vengono Parzialmente Puniti Funico Lizzazzà Lascia il pallone Il Fiche Adesso stanno un po' Gigioneggiando Il Star Galacticos Saltato anche Dose Al limite Eccolo qua Carpani Empi La curva Nel Fiche Dal limite Il Fiche La sterzata di destra Il Fiche Poker 8 a 2 Piccola curiosità Il Fiche Dovrebbe imparare A muovere solo la mano Quella dietro Dove parte la freccia Perché quella davanti È come se gli caresse L'arco No? Non dovrebbe aprirla Attenzione 8 a 2 10 minuti sul cronometro Una Una sgambata Chiamiamola così Questa partita Non c'è mai stata partita Vedremo poi Quali saranno gli avversari futuri Se i Seven Sins E la squadra di parolo Sicuramente Il torneo adesso Entra Nelle Nelle fasi quelle calde Attenzione Brudi Fa tutto da solo La grande risposta Stavolta del portiere Poi è il Fiche Palo Mamma mia Stanno Letteralmente Dominando Ancora il Brudi Con il suo sinistro Fuori di poco Si riprende Con il gioco a due Dei difensori Dei difensori Della squadra Bianco Verde Salvatore di Lillo Detto anche Funico Lì Zazà Non rincorre l'avversario Ma attenzione Perché il Brudi Serve il pallone Per il Fiche 5 gol Di El Fiche E un altro assist Per il Brudi Hanno dominato Il match I due Numero 10 E numero 22 9 a 2 13 sul cronometro Altro tiro Scheggia la traversa Sarà corner Se ne va Funico Lizzazzà Se ne va Funico Lizzazzà Riesce a servire Il pallone per il Fiche Il Fiche Funico Lipport E vuota Doppietta Anche per lui 10 gol Incredibile Dominio assoluto Dominio assoluto Dominio assoluto Degli All Star Galacticos 35 a 2 Mp Ci scherza su 35 a 2 In realtà siamo 10 a 2 Però Fa capire Che questo è stata Quasi un allenamento Per gli All Blacks Dirichi dose E compagni Chris Laway Con la suola Gestisce il pallone Degli All Star Galacticos Dose Elegante Esterno a camere gioco Carpani Convolto anche Sergei La curva Invisibilio Per questo match Nel Fiche Pallone dentro Ed è di nuovo Un gol del Brudi Tripletta 11 a 2 Palla Molto bella Del Fiche Dimenticato il Brudi Iniziamo il torneo Riccardo Dose Ci porterà A Santo Domingo A sue spese Una promessa Va mantenuta E vedremo Se andranno a Santo Domingo In caso di vittoria Del torneo Intanto Questa l'hanno Stravinta come partita Il Fiche Parte il tiro Altro gol È diventato quasi Superfluo Commentare 12 a 2 6 gol del Fiche Bravi tutti Però Io adesso vorrei Anche Fare Fare questa domanda Un po' a tutti Coloro che stanno Seguendo questo video È il caso Di fermarsi In queste In queste situazioni 12 a 2 Oppure È anche per rispetto Dell'avversario Oppure È meglio andare avanti Per Per dare onore Onore Alla competizione Alla partita Insomma È il classico dibattito Che però Non si capisce mai Qual è La verità Ecco Forse in Premier League Se ne sbattono Vanno avanti Fino alla morte Mentre qua In Italia C'è più Il rispetto Dell'avversario Attenzione Il Brudi Nel frattempo Ecco Qui Bravo il Brudi Perché ha rispettato L'avversario Sparando alto A porta vuota Attenzione Il Fiche Invece Ci dà la dimostrazione Che non bisogna mai smettere E fa il settimo gol 13 a 2 Ecco Siete più Brudi O più Fiche Intanto Arriva Il fischio Dell'arbitro 13 a 2 Dominio assoluto Io vi ringrazio Un saluto Dai Matoshi Ci vediamo Al prossimo match Di Dior Star Galactic Di Dior Star Galacticos E comunque Siamo Ufficialmente Passati Non scegliere Dausa Se sceglie Berlini Lascia il calcio Non può scegliere Berlini Non può scegliere Berlini Non scegliere me Se scegliere il mister Impazzisco Mister 9 Non penso proprio 1 2 3 Brudi Eero 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 E